Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Lotta assenza quartiere contro lo spaccio di droga a Fano A Bellocchi la polizia arresta un campano di 44 anni A Fano 2 invece i carabinieri un fanese di 24 A Lucrezia tre gatti sono stati avvelenati con una sestanza bluastra Due sono morti, uno è stato persino coperto con la cenere Nuovo blitz dell'assessore Belloni contro i finti sordomuti Che chiedono soldi nel centro di Pesaro Fate finta di essere sordi? Fate finta di essere sordi? Sì, guarda Le scogliere tornano a far discutere Il comitato Lebrecce alla carica sul tratto di fronte a via Fratelli Zuccheri Tra poco l'ultima puntata del 2019 di Primo Cittadino Ospite il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV Al nostro appuntamento con l'informazione L'informazione locale sul canale 17 A Fano le forze dell'ordine hanno ingaggiato una lotta senza quartiere Contro lo spaccio di sostanze stupefacenti Nei prossimi due servizi vi faremo vedere le operazioni messe a segno In questo fine settimana dagli agenti del commissariato di Fano E da quelli della compagnia Carabinieri Vediamo Gli uomini del commissariato di Fano Coordinati dal dirigente Stefano Seretti Hanno ingaggiato una lotta serrata e senza esclusione di colpi Contro lo spaccio della cocaina nella città di Fano Dopo l'arresto del 38enne albanese Ed il sequestro di 600 grammi di cocaina purissima E i primi di dicembre E' stato il quartiere di Bellocchi Ad essere passato al setaccio negli giorni scorsi E ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio Un 41enne campano originario di Torre Annunziata Residente nel quartiere dove viveva con la famiglia Ma senza una occupazione stabile All'arresto si è giunti grazie all'osservazione Da parte degli uomini del reparto investigativo Dei movimenti di alcuni consumatori abituali di cocaina Che spesso gravitavano nei paraggi dei giardini pubblici Alle spalle della scuola elementare Tombari E in via Prima Strada Diversi appostamenti e servizi in borghese Hanno fatto capire agli agenti Che c'era un punto di riferimento nella zona Che causava tutto questo andi rivieni di cocainomani E ben presto lo hanno individuato nella quarantena L'uomo utilizzando alle volte una minicar O spesso anche a piedi Si spostava nei punti in cui si vedeva con i clienti In ogni ora del giorno Ma nella giornata di giovedì scorso Gli agenti del commissariato Capito che era il momento giusto Hanno fatto un blitz nella sua abitazione proprio Mentre l'uomo era in procinto di uscire di casa Il campano ha tentato la fuga dalla finestra Del secondo piano della palazzina dove abitava Ma i poliziotti non gli hanno dato il tempo Avendo occupato tutte le vie di fuga possibili Nella sua abitazione sono stati trovati 100 grammi di sostanza stupefacente Nascosta nel forno di casa Per un valore di oltre 10.000 euro Sostanza da taglio, bilancini e materiale Per il confezionamento delle dosi Le dosi che l'uomo confezionavano Erano molto tagliate E quindi rendevano bene sul mercato Ma la qualità però era bassa E quindi la sua clientela Era una clientela di fascia media E di età compresa tra i 20 e i 30 anni Nella perquisizione dell'abitazione È stata anche trovata una dettagliata agenda Ora al vaglio degli inquirenti In cui il quarantenne annotava Nominativi, dosi e relativi incassi Il dirigente Stefano Seretti Ci conferma che la cocaina Rimane uno dei traffici ancora più proficui Nel mondo delle sostanze illegali E largamente diffuso Soprattutto nelle fasce giovanili E quindi anche in futuro L'azione degli agenti del commissariato Sarà sempre più incisiva e pressante A Fano per debilitare questa piaga Lo spacciatore, ora processato per direstissima Una volta convalidato l'arresto È stato portato nel carcere di Villa Fastigi In esecuzione Alla misura di custodia cautelare in carcere Emessa dal giudice di Pesaro I carabinieri della stazione di Fano Hanno arrestato un giovane fanese Di 24 anni per detenzione Ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti I militari erano andati a casa sua Nel quartiere di Fano 2 In tarda serata di ieri Per eseguire un ordine di carcerazione Per precedenti pendenze con la giustizia E per le quali il ragazzo Doveva ancora scontare una pena Di 3 anni e un mese di reclusione Un'attività pressoché ordinaria Quella dei militari Che si sarebbe dovuta eseguire Con l'accompagnamento in carcere Del giovane fanese Invece l'attenzione e il fiuto Investigativo dei carabinieri È stato attirato da un certo nervosismo Del giovane alla vista dei militari Da qui la decisione di procedere Ad un controllo più approfondito Dell'abitazione Che ha portato a rinvenire Sul tavolo del salone Un bilancino di precisione Ed una dose di stupefacente Di tipo hashish Per i quali il giovane Ha subito dichiarato Di essere per uso personale Ma il bilancino rinvenuto Ovviamente lasciava presagire Qualcosa di diverso I carabinieri Per nulla convinti Di quanto ha dichiarato il giovane Hanno controllato Tutti i locali della casa E nella camera da letto Del 24enne Hanno rinvenuto Altri due panetti Di 35 e 70 grammi di hashish Nonché tre grinder Dispositivi con all'interno Piccoli chiodi Che servono per macinare Normalmente marihuana Però La presenza di questi dispositivi Ha fatto alzare le antenne Ai due militari Che hanno subodorato La possibilità Della presenza in casa Anche di marihuana Ed infatti Ben occultata All'interno dell'armadio È stata trovata Anche una busta Trasperente Contenente Oltre mezzo chilo Di marihuana Nonché altri Quattro panetti di hashish Del peso di 100 grammi Cada uno Praticamente una Santa Barbara Dello stupefacente Quella rinvenuta Mezzo chilo di hashish E oltre mezzo chilo Di marihuana Per un valore Sul mercato Di oltre 20.000 euro A questo Si è aggiunto Anche il rinvenimento Da parte dei militari Di denaro contante Di materiale Utile al confezionamento Dello stupefacente Un sequestro Quindi importante Quello eseguito Dai militari Della compagnia di Fano Il secondo In poco più Di due mesi A settembre Infatti a Cagli Venne arrestato Un fabbro Con oltre un chilo Di cocaina Che testimonia L'impegno costante Dei carabinieri Nella prevenzione E repressione Dei reati In materia di stupefacenti Il giovane 24enne E' stato portato In carcere Quindi a Villa Fastigi A Pesaro Il quale Dopo aver scontato Le pene pregresse Sarà chiamato Anche a rispondere Della detenzione Ai fini di spaccio Di questo Ingente Quantitativo di droga Due Anzi Tre gatti Avvelenati Due Sono morti Uno addirittura Sotterrato Sotto la cenere Un terzo Dicevo Si è salvato E adesso In osservazione In una clinica Veterinaria Tutto questo E' accaduto A Lucrezia Di Cartoceto Non sanno darsi pace I residenti Di via San Marco A Lucrezia Di Cartoceto Due morti Sospette Per avvelenamento Di due gatti Domestici Ed un altro Manca l'appello Ma quello che fa Inorridire di più I residenti E' l'incomprensibile Modalità di ritrovamento Di uno dei due Animali avvelenati Oltre ad avere Segni di una strana Sostanza bluastra In bocca Come l'altro gatto Purtroppo Morto di stenti E' stato rinvenuto Ricoperto di una polvere Grigiastra Probabilmente si tratta Di cenere Sparpagliata Nel posto In cui è stato ritrovato E sul corpo Anche della povera bestiola Abbiamo scoperto Dietro una fratta In un campo Coperto di cenere E sempre con Una sostanza Colorata in bocca Più o meno Come l'altro gatto Che era morto All'appello Ne manca un altro Che ancora non è Tornato a casa Si sospetta Che abbia fatto Una fine simile Si sospettiamo La stessa fine Oramai Ne siamo più che certi Il gatto Non appartiene a me Il gatto che apparteneva a me E' quello che è stato Ricoperto di cenere Però più o meno Siamo certi Che sia la stessa fine In questa via Siamo tutti più o meno Proprietari di cani Gatti Quindi Questa cosa Un po' è strana Perché sembra quasi Fatta da una persona Che li odia In realtà Non ci torna Ecco Ora ci dicono Diversi residenti Che hanno animali Domestici Ma che come tutti Ogni tanto Escono di casa Per scorazzare liberi Come loro natura Adesso Per la paura Che qualcosa di brutto Possa accadergli Siamo costretti A segregarli in casa E non ci sentiamo Più liberi Chi e perché Si chiedono Ha fatto una cosa simile Che fastidio davano Due innocui gatti Domestici Che bisogno c'era Di fargli fare Una così brutta fine E intanto Si aspetta E si spera Che il terzo Che manca l'appello Nel giro di qualche settimana Torni a casa Sano e salvo Il fastidio Penso che era poco L'assessore Enzo Belloni Si scaglia ancora Contro i finti Sordomuti Che chiedono Soldi Nel centro Di Pesero Un secondo blitz A distanza Di poco più Di un mese Che Aiutato anche Da un poliziotto In borghese Ha messo in fuga E due truffatori Un blitz Chiamiamolo così Che ha ripreso Con il suo cellulare E poi postato Su Facebook Vediamo Sordi Fate finta Di essere sordi Fate finta Di essere sordi Si guarda La polizia Veniva a prendere il foglio Sono questi due Che fanno finta Di essere sordi Sempre Una volta Non le donne Adesso sono gli uomini Sono questi due La polizia Interviene subito Questa volta Io ho un figlio sordo Hai capito? Io ho un figlio sordo Non si prende in giro Le persone No? Avete rotti i coglioni Capito? L'italiano Sì Un figlio sordo Torna a farsi vivo Il comitato Le brecce Di via Fratelli Zuccheri Oggetto Della discussione Le scogliere Annunciate A Metauriglia Di Fano Da parte Dell'amministrazione Il comitato Le brecce Torna Ad alzare il tiro Sul tema Scogliere E zona del bersaglio Lasciata nel degrado E nell'incuria E alla progressiva Inesorabile Continua erosione Del mare Un tempo Qui davanti Dice Mauro Ginesi C'erano metri E metri Di arenile E dove si praticava Anche la pesca Alla tratta Ora invece Detriti Di una struttura Quella dell'ex go-kart Nonché poligono militare Lasciata a se stessa Ed un monumento storico Dichiarato nel 2006 In completo sfacelo La mancata realizzazione Delle scoglieri In questo punto Ha portato anche All'erosione Di una parte Della pista stessa Ora completamente Inghiottita Dalla furia del mare A testimonianza Di quanto Questo abbia mangiato Purtroppo Questo monumento storico Ce lo sta portando via il mare Noi ci siamo battuti Da sempre Per la difesa delle case Dei cittadini Però come cittadini Difesa delle case Non gli ha interessato nessuno Siamo proprio non considerati Vediamo adesso Se qualcuno Si interessa Di proteggere Questo monumento storico Perché noi ci teniamo Alla difesa Di questo monumento storico Per due motivi Uno perché È un monumento storico Due perché Poi Alcune case Di via Fratelli Zuccheri Sono minacciate Dalla La esondazione Del mare E Le case Su via Del bersaglio Ci troviamo In questa situazione Non solo Qui abbiamo speso Inutilmente I soldi I famosi 3 milioni Che dovevano essere Per l'emergenza Ma mi pare Che L'impianto Fino adesso Sia costato Altri 3 o 4 milioni Che i cittadini Hanno pagato Di loro tasche Per i capricci Di qualcuno Ma ora Oltre a un monumento storico Ciò che destra ancora più allarme nei residenti In special modo in quelli che hanno le abitazioni In via Fratelli Zuccheri La montagnola Un terrapieno Al termine dell'infilata del poligono Sta scomparendo Mangiata dalle mareggiate Onda su onda E alle spalle ormai Non ci sono che le case A pochi metri di distanza Siamo abbastanza preoccupati per questa situazione Con questo tratto scoperto Scoperto dalle scogliere Ci troviamo che ogni volta Ogni inverno Ci sono mareggiati sempre più forti Perché il mare naturalmente Prende potenza E ci troviamo con questa condizione E al di là di queste montagnola Ci sono le abitazioni Quindi siamo preoccupati Perché se nessuno interviene Se rimane la situazione così Ferma Senza nessun provvedimento Ci troveremo con l'acqua dentro casa E adesso spazio allo sport Con Matteo Del Vecchio La vittoria al Manuzzi Di settimana scorsa Aveva fatto sperare In una scossa Invece anche ieri Si è vista la solita Alma Che paga caro prezzo E errori individuali E chiude il girone d'andata Con 12 sconfitte In 19 partite Al Mancini passa La Virtus Verona Per 1-0 E Fano Che al giro di Boa Del girone B Di Lega Pro Conta ancora Zero vittorie Tra le muramiche La prima di fronte Ai propri tifosi Del neotecnico Alessandrini Si apre nel peggiore dei modi Al diciannovesimo Infatti Di Sabatino Spiana la strada Per quello che sarà poi Il gol partita ospite Effettuando un retropassaggio Suicida Sul quale si avventa Magrassi Che chiama Agli straordinari Viscovo Il quale però Non può nulla Sul successivo lob Da 30 metri di Lupoli L'ex Arsenal Ha tra i piedi Poco dopo la palla Del raddoppio Ma la difesa granata Tiene Anche se il primo tempo Si chiude con zero azioni Pericolose Da parte dei padroni Di casa Fatto salvo Per un fendente Di boccioletti Respinto da Giacomel Decisamente meglio I secondi 45 minuti di gioco Anche se di azioni Da notare nel taccuino Se ne contano solo due Una di Baldini Al ventitreesimo Sulla cui punizione Nessuno riesce a trovare Il tapin Dopo un errore Del portiere ospite E una al ventisettesimo Quando lo stesso Estremo difensore Veronese È bravo Sull'incornata di Gatti Le concomitanti sconfitte Di Rimini Gubbio Imolese E Arzignano Fanno sì che la classifica Non subisca mutamenti Ma va da sé Che già da domenica prossima Quando scatterà Il girone di ritorno Che per l'alma Coincide con il derby Di San Benedetto Occorrerà un cambio di passo Per evitare una stagione L'ennesima Tribolata Fino all'ultimo Triplice Fischio finale Ci si avvia Verso un lungo stop Invece nel campionato Di Serie B Di Calcio A5 Dove Eta Beta Grazie al blitz esterno Di sabato sul campo Del Cavezzo Vede sempre più da vicino I playoff Un solo punto infatti Separa la formazione Di Patrono Serafini Dalle Magnifiche 4 Che lotteranno Per la 2 E questo Grazie al 3-2 Conquistato in terra Modenese Grazie ai gol di Copparoni Tomassini e Bei Solito il copione del match Con Eta Beta Che crea tanto E spreca ancora di più E avversari Che alla prima occasione Fanno centro A differenza di altre volte Però I ragazzi di Mariotti Ci mettono la giusta grinta E a 4 minuti Della sirena Riescono a mettere In cassaforte La vittoria Che permetterà All'ambiente Di passare sicuramente Un buon Natale E si mette sotto l'albero Un bel regalo Anche il Buldo Glucrezia Che si impone Per 8-1 Sul Cioli Ferro Sariccia Nel campionato di Serie 2 Portando a casa 3 punti d'oro In chiave salvezza Prestazione convincente Gagliarda Dei ragazzi Di Mister Roberto Simani Che salgono a 14 punti Allungando di 4 lunghezze Sulla zona play-out E si festeggia Anche in casa Giban Virtus Grazie alla bella Quanto importante vittoria Ottenuta ieri Sul campo del Gamma Chimica Brugherio Che permette alla squadra Di tornare a punti Dopo 2 K.O. Consecutivi Dopo aver buttato via Il primo set E aver vinto per distacco Il secondo Nel quale il 2004 Federico Roberti Si forgia del titolo Di più giovane Debuttante in assoluto Della Serie A La Giba mette la freccia Nel terzo Prima di farsi riprendere Nel quarto Vinto al cardiopalma Dai Brianzoli Per 28-26 Nel quinto decisivo set La Virtus approccia Colpiglio giusto Riuscendo subito Ad effettuare lo strappo Che i padroni di casa Non riescono più a ricucire Il 15-10 Permette ai biancorossi Di conquistare due punti E portarsi al quintultimo Posto in classifica In una posizione Tutto sommato tranquilla Che lascia ancora aperto Ogni scenario Per il proseguo della stagione Non ci sono più dubbi Invece su quello Che sarà il futuro prossimo Del fano rugby Che si prepara A disputare Per la prima volta Nella sua storia I playoff Per salire Della C1 Alla B La settima vittoria consecutiva Questa volta spesa Dell'Unione Rebbistica Anconitana Permette ai ragazzi Di Walter Colaiacom E Franco Tonnelli Di staccare con largo anticipo Uno dei tre biglietti In paglio Per partecipare Ai playoff promozione Davanti al folto Ad appassionato pubblico Del Falcone Borsellino I rosso-blu Si sbarazzano Con un autorevole 43-5 Dei rivali Proseguendo nella propria Marcia trionfale Grazie alle tre mete Di Matteo Fulvio Golini Alle due Di Gabriele Breccia E ad i sigilli Di Davide Vespaziani E Nicola Barnesi Corredate da quattro Trasformazioni Di Stefano Rossolini Periodo positivo Anche per il nuoto Come confermano Gli ottimi risultati Ottenuti nei giorni scorsi Dalla SD Fanon Fortune Che ha qualificato Ben 11 atleti Per i campionati regionali In programma a marzo Ad Ascoli Piceno In vasca Per l'accesso ai regionali Anche gli esordienti Che oltre a migliorare I propri personali Hanno già conquistato Numerosi podi Nelle rispettive categorie Per la gioia Di dirigenti allenatori E dell'intero movimento Che vede Fano Sempre più in ascesa Adesso spazio invece Al concorso Dedicato e riservato Ai vostri presepi Cominciamo subito A vedere quali sono Le opere In gara Questa sera Iniziamo con Lorenzo Pagnoni Questo è il suo Il suo presepe Lorenzo è di Fano Ecco un bel presepe Fatto e realizzato All'interno di una conchiglia Da Giovanni Proto Di Senigallia Un presepe Fatto interamente a mano Quello di Gigliola Alessandrini Di Lucrezia Di Cartoceto Ed è anche in posa Cesare di Colli Al Metauro E questo invece È il presepe Dell'opera Realizzata da Eleonora e Bianca Di Sant'Orso Un quartiere di Fano Ecco qui invece Il presepe Di Sara Stefanelli Giuliana da Fano Invece ci ha inviato Un video Con L'opera E questo invece È di Mari Cabriganti Il nono presepe In concorso È quello di Monica Sbarbati Di Senigallia Natività In Ceramica E chiudiamo Con Ilaria Emanuele Donatella Di Lucrezia E davvero complimenti A tutti i nostri presepisti Vi ricordo che potete Ancora inviarci Le vostre fotografie Almeno tre scatti E un breve video Di 30 secondi O un breve video Di 30 secondi All'indirizzo Presepi Chiocciola Fanotv.it Ma adesso Apriamo invece L'album di famiglia Perché dobbiamo fare Gli auguri Ad una coppia Che sta insieme Da 50 anni Ed è A Terre Roveresche Di Piagge Di Terre Roveresche Sono Gianelio E Ienni Che hanno festeggiato Sabato Il loro cinquantesimo Anno di matrimonio Gli auguri Naturalmente Dai figli Da tutti i parenti E da tutti noi Di Fano TV L'informazione Finisce qua Tra poco Le previsioni Del tempo Poi c'è C'è Naturalmente La pubblicità Ma c'è la diretta Con Primo Cittadino Primo Cittadino Che questa sera Avrà come ospite Emanuele Petrucci Sindaco di Monbaroccio Questi sono i numeri Di riferimento Potete inviarci anche Dei messaggi Con Whatsapp Grazie per averci seguito L'informazione Torna domani mattina Alle 7 in diretta Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.